siamo arrivati a Cozumel ci imbarcheremo sul catamarano di oggi che è questo qua si chiama El Magnifico siamo arrivati alla prima tappa di snorkeling pronti? qua i ragazzi entreranno o buttandosi o direttamente dalla scala qua sotto c'è tutta la barina corallina siamo arrivati al santuario delle stelle marine e il cielo guardate l'acqua che spettacolo questa volta ci hanno siamo arrivati alla terza tappa El Chielito questa piscina naturale e ci scendiamo tutti e guardate che spettacolo eccoci qua al Chielito che spettacolo ragazzi guardate dove siamo una piscina naturale in mezzo al mare l'acqua è bassissima in solito sto anche inaugurando la nuova GoPro perché questi video stanno facendo quella GoPro nuova l'acqua è trasparente vi portiamo qua con il nostro tour in catamarano che è appunto quello lì guardate questo qui in c'è guardate questo qui in c'è guardate questo qui in c'è spettacolare guardate ci portano anche i drink in acqua guardate che spettacolo è arrivati al beach club di Palania dove andremo a pranzo da questa parte come vedete ci sono i giochi acquatici e invece da questa parte le moto acquatiche e anche i kayak e le biciclette acquatiche andiamo a pranzo va dopo il pranzo super relax guardate che mare spettacolo già che ci sono fatto anche un bagnetto in piscina tanto per rilassarvi un po' guardate che abbiamo anche tempo guardate che spettacolo è anche bella calda è anche bella calda eh? quello è un coche via questa è la situazione sulla barca al giorno no 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 Buongiorno!